Cala il sipario sulla terza edizione di FoodExp Food Life Experience, l'evento dedicato al food, al wine e all'ospitalità d'eccellenza, nato da un'idea di Giovanni Pizzolante, consulente nell'Hospitality Management. Per due giorni il Chiostro dei Dominicani di Lecce ha accolto gli operatori e gli appassionati del settore che nella città salentina hanno potuto confrontarsi con le stelle del mondo della ristorazione, dell'hotellerie e dell'enogastronomia di qualità. Protagonisti dell'edizione 2020, i giovani talenti e le nuove sfide per i professionisti di domani, direttamente coinvolti nella manifestazione anche grazie a un progetto realizzato in sinergia con gli istituti alberghieri e l'assessorato all'istruzione, formazione e lavoro della regione Puglia. Dalla panificazione alla cucina stellata, dai palchi all'arte della fotografia, ricca la Due Giorni, chi ha visto l'assegnazione del premio FoodExp alle personalità che si sono distinte nella ristorazione dell'hotellerie e nell'impresa. Bilancio positivissimo per questa edizione, sono molto contento, abbiamo un bellissimo rapporto con il sociale, imprenditori, studenti, docenti, presidi, sono stati interessati. Quest'anno un progetto un po' diverso, che migliora il progetto FoodExp. Un piccolo messaggio che voglio portare a conoscenza è che questo progetto è un contenitore per le imprese anche, coloro che devono avere la possibilità di aggiornamento su un profilo medio-alto, alto, e che non solo per gli studenti ma anche per imprenditori del posto. Quindi il motivo per cui vorrei tanto è che la prossima sfida è 2021, avvicinare gli imprenditori pugliesi all'interno di questo progetto.